Un passo in avanti nella lotta alle patologie tumorali è stato annunciato a Torino dalla Città della Salute. Nell'ambito del progetto di ricerca europeo Rise Brain, che ha visto coinvolti ricercatori della struttura sanitaria e dell'università torinesi, si è potuto identificare un meccanismo che contribuisce allo sviluppo delle metastasi cerebrali e quindi alla definizione di possibili bersagli terapeutici. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista internazionale Cancer Discovery e ha coinvolto a Torino il professor Luca Bertero e la dottoressa Alessia Pellerino. Attraverso la valutazione di modelli derivati da campioni di metastasi cerebrali in pazienti da tumori a incidenza elevata, prevalentemente di origine pulmonare e mammaria, è stato ricostruito il sistema con cui specifici gruppi di cellule contribuiscono a bloccare la risposta immunitaria. Poi è stata individuata una proteina chiamata Timp1 come elemento fondamentale di questa interazione. Le potenziali ricadute di questo studio, affermano dalla Città della Salute, sono numerose. Nell'ambito delle terapie oncologiche, l'immunoterapia ha rappresentato una rivoluzione che ha consentito un miglioramento significativo della prognosi dei pazienti anche in fase avanzata di malattia. Tuttavia i risultati ottenuti fino ad oggi in malati con metastasi cerebrali sono variabili e difficilmente prevedibili nel singolo paziente, anche a causa della specificità e complessità del sistema nervoso. Ora, per esempio, potrebbe essere sfruttata la proteina Timp1 per stimare la prognosi dei pazienti con metastasi cerebrali e per ottimizzare le scelte terapeutiche. Una scoperta che dimostra ancora una volta quanto la sanità piemontese riesca a conciliare al massimo sia la parte assistenziale, sia quella della ricerca, ottenendo risultati come questo. E quanto afferma Federico Riboldi, assessore alla sanità della Regione Piemonte, commentando l'esito dello studio. Grazie a tutti.